La prima fase propedeutica della restituzione, cioè la restituzione del patrimonio storico artistico alla comunità e l'acquisizione del patrimonio stesso. Nel corso dell'estate un nuovo capitolo è andato ad arricchire questo patrimonio regionale attraverso l'acquisizione del castello vallese di proprietà privata che domina metà della collina che sovrasta l'abitato di Arnà. Dall'11 al 14 novembre, in occasione della festa patronale di San Martino, l'assessorato regionale alla cultura ha organizzato così una nuova tappa di Chateau Souver, aprendo al pubblico il suggestivo maniero e abbinando l'iniziativa ad un momento di festa della comunità. Arnà è un castello importantissimo che mancava tra quelli da inserire nel circuito dei beni culturali, quindi prima fase quest'estate l'acquisizione e quest'idea subito di aprire e rendere accessibile alla comunità durante un'apertura straordinaria il castello con la logica del cantiere vento già proposto durante l'apertura straordinaria del castello a Car e a Emmaville. Una prima apertura durante la festa patronale di Arnà per quattro giorni e una seconda apertura abbinata alla festa dell'ardo quest'estate sarà sicuramente un momento di grande partecipazione e soprattutto un momento di accessibilità della cultura per rendere partecipare il maggior numero possibile di persone a questo patrimonio culturale che poi è bene dell'intera comunità. Per quattro giorni visite guidate e gratuite su prenotazione e visite di scolaresche hanno permesso al pubblico di scoprire il castello che fu la più sontuosa di Mora dei Vallese anche attraverso suggestivi momenti musicali e piccole pièce teatrali. Risultato di più fasi costruttive che ha visto il susseguirsi di significativi interventi di trasformazione, l'aspetto attuale del castello e il suo arredamento risalgono ai lavori promossi da Alessandro Vallese, morto nel 1823, il personaggio più illustre della famiglia in quanto ministro degli esteri del re Vittorio Emanuele I di Sardegna. Egli trasformò il castello in residenza di villeggiatura. Il complesso si sviluppa su tre piani, fiancheggiati da due torri quadrangolari e presenta al suo interno alcuni ambienti di notevole pregio con un'interessante decorazione pittorica. Tutto il complesso diventerà ora oggetto di studio e ricerca. Avremo modo di studiare questo castello attraverso tutta una serie di attività che vanno dalla ricerca, restauro e valorizzazione e potremo inserirlo come dire nel sistema beni culturali valdostano perché è davvero un castello straordinario. Ha un apparato decorativo veramente eccezionale, seicentesco e quindi da questo punto di vista può essere veramente un punto di riferimento anche per la bassa valle. Ovviamente c'è tutto una prassi, un modus operandi della sovrintendenza che parte dalla ricerca attraverso appunto, adesso stiamo valutando per fare un rilievo, un rilievo che sarà la base per effettuare tutte le ricerche del caso, incrociando poi i risultati di queste ricerche con le ricerche d'archivio e con i dati pubblicati possiamo capire l'evoluzione edilizio architettonica del castello e la sua storia. Dopodiché passeremo tutta la fase di progettazione del restauro, del restauro conservativo di tutto l'apparato decorativo che è presente nel castello e infine passeremo a tutta la fase di progetto di valorizzazione, progetto di valorizzazione che permetterà la fruizione da parte del pubblico di questo castello.